Sono confortati dall'idea della formazione, un po' spaventati, perché all'inizio non sanno a cosa vanno incontro, ma proprio perché noi abbiamo pensato proprio a un percorso e noi in realtà la formazione la fanno dopo che già ci hanno incontrato varie volte, quindi noi abbiamo spiegato il senso della formazione che è un'esperienza e non un indottrinamento, il senso è proprio quello di accompagnarli e dotarli di strumenti proprio interpretativi di ampliamento della consapevolezza e quindi poi quando loro cominciano a fare la formazione sono molto contenti perché è proprio una condivisione, un mettere insieme e un guardare alla relazione con l'altro con occhi nuovi, diversi e quindi diventa per loro un sollievo, un conforto sapere a cosa vanno incontro nell'esperienza di volontariato che a volte è molto complessa perché a volte ha anche a che vedere non solo con la raccolta fondi ma anche con il rapporto con delle persone che stanno male e quindi è un conforto sapere come approcciarsi, come stare in quella relazione, è un riscoprire dentro di sé degli strumenti che già possedeva in realtà.